Non solo i campi flegrei, tutta Napoli ha tremato. Paura e preoccupazione tra i cittadini. Il sindaco Gaetano Manfredi ha sentito il capo della protezione civile per un punto della situazione. Tanta paura, ma non sono stati segnalati danni alle strutture. Il sindaco, con l'assessore Cosenza, sta seguendo la situazione con massima attenzione. La gente si è riversata in strada, soprattutto nella zona di Bagnoli, ma le tre forti scosse sono state avvertite distintamente in tante parti della città, tra cui anche la zona collinare. Migliaia di residenti sparsi per la città hanno lasciato i piani alti per qualche minuto, subito dopo la seconda e la terza scossa. A Bagnoli molti preferiscono dormire in auto. Chiusa per controllo e precauzione anche la linea 2 della metro, verifiche attivate anche alla linea 1. Oggi scuole chiuse a fuorigrotta, Bagnoli, Pianura e Soccavo, Off Limits, tutti gli istituti della nona e della decima municipalità, per portare avanti verifiche sullo stato dei luoghi. Recintato un palazzo a via Diocleziano per una fuga di gas, i pompieri sono intervenuti tempestivamente sul posto e non escludono che il fatto sia da collegare allo sciame sismico. La periferia occidentale è stata quella più bersagliata.